Risto Callaste, forse il nome non vi dice molto, ma le immagini delle sue rimesse in gioco battute con una capriola lo hanno reso famoso. Rispetto a questa spettacolare rimessa laterale, avete visto il lancio con le mani, vediamo se De Pasquale è in grado di riproporsi il replay, osservate, un'autentica acrobazia, questo virtuosismo gli permetteva di offrire per i propri compagni delle rimesse che erano dei veri e propri cross, il difensore Estone classe 71 ha vissuto un periodo felice della sua carriera durante gli anni 90, quando diventò anche un perno fondamentale nella sua nazionale, si è ritirato nel 2006, ma le sue rimesse da acrobata resteranno tra le chicche del calcio internazionale. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.